Sindaco siamo ai laghi di Sibari per consegnare ufficialmente un altro appalto, quello dei patti territoriali per un importo totale di 800 mila euro verrà rifatta l'area di accesso dei laghi, l'area di accesso a marina di Sibari e l'area di accesso di bruscata e fuscolare. Ci racconti un po' che cosa nel dettaglio prevede questo progetto? Sì, noi abbiamo programmato una serie di interventi su tutto il territorio comunale per la messa in sicurezza della rete stradale, ci siamo concentrati particolarmente nelle zone turistiche, l'anno scorso abbiamo eseguito un intervento di sistemazione stradale all'interno del villaggio di marina di Sibari, poi abbiamo partecipato ad un bando della regione Canabria che ringrazio per il finanziamento con i patti territoriali di un intervento più consistente che riguarda l'abitumazione completa della strada di accesso a marina di Sibari, il lavoro di rifacimento totale del bitume sulla strada sino all'altezza di Baia degli Achei, l'intervento poi continua sulla bretella di collegamento tra marina di Sibari e lagina di Sibari per una sistemazione della stessa, poi interveniamo ai lagina di Sibari all'ingresso del villaggio, c'è un intervento di rimozione di due dossi che ci sono da anni sulla strada e poi a parte una sistemazione dignitosa della strada, c'è il completamento della lottizzazione ai laghi di Sibari, il tappetino di usura su tutta la torsale, la strada che è dalla garitta dove è posizionata la vigilanza sino alla rotatoria dove c'è l'accesso al mare, un grande intervento mai fatto prima ai laghi di Sibari, mai fatto prima anche a marina di Sibari, poi ci spostiamo e andiamo a Fuscolara che è l'altra zona turistica del nostro comune, sarà fatta la strada di accesso a Fuscolara dall'ingrocio con la strada provinciale fino alla proprietà pubblica, fino al mare, a un altro intervento che andava fatto e che va a completare ciò che noi abbiamo iniziato alcuni anni fa, quando abbiamo bitumato completamente la strada di Millepini, tutta la strada che porta ai lidi di Millepini e che porta al villaggio Bagamoio. Come vedete studiando la geografia territoriale, l'orografia territoriale, ci si rende conto che l'amministrazione ha disegnato un percorso di messa in sicurezza della rete stradale turistica per accogliere bene i turisti, per rendere sempre più dignitosa la parte turistica del nostro territorio e per far sì che tutto si svolga nella più assoluta sicurezza. Noi pretendiamo che gli automobilisti facciano il loro dovere, nello stesso tempo il comune deve fare il suo dovere nel garantire strade transitabili dove non ci siano buche, dove l'automobilista possa non avere problemi di guaste, di incidenti. Poi è una testimonianza, qualora ne fosse bisogno, di un impegno verso la parte turistica del nostro territorio perché noi questa parte la dobbiamo privilegiare, salvaguardare, dobbiamo renderla sempre più attrattiva come amministrazione comunale dobbiamo fare sino in mondo il nostro dovere. Ed è l'ulteriore intervento di testimonianza di un impegno che abbiamo iniziato alcuni anni fa verso la parte turistica del territorio, abbellendola, recuperando, perché si tratta proprio di recuperarla e di grandire dignità alla stessa. Gli interventi di abitumazione non si fermano qui, abbiamo già 100.000 euro per abitumare la stata di Giastreta che è attraverso una zona agricola importante nel nostro territorio. Poi abbiamo appaltato un intervento consistente di 2 milioni e mezzo per intervenire nelle contrade rurali, per intervenire a Sibaricentra, a Lavoropolicentra, a Cassanocentra, a Doria per fare tantissimo. Credo che l'estate 2024 per il Comune Cassano sia l'estate della messa in sicurezza delle strade perché con questi interventi veramente noi metteremo mano completamente alla rete stradale e sarà un intervento orgoglioso perché molti, anche all'esterno del nostro territorio, si complimentano per come è tenuta la rete stradale del Comune. È veramente un bellissimo intervento. Io ringrazio la Regione Calabria, ricordo che proprio qui facemmo un incontro, c'era l'assessore Gallo, c'era l'assessore Orso Marso, e si parlava di patti territoriali, ho chiesto in quella circostanza un finanziamento in più per intervenire anche nella zona di Millepine, poi lì ha fatto da solo il Comune Cassano quindi tutta la somma l'abbiamo investita ai laghi, a Marina di Sibaric, a Fuscolare. Quindi ringrazio tutti, ringrazio la mia maggioranza che mi sostiene sempre con grande determinazione, alla mia giunta, ringrazio gli uffici del Comune, tutti quanti, per l'ingomiabile lavoro che stanno svolgendo. Qui l'Ufficio Tecnico Comunale si è dato molto da fare, insieme anche al Comando di Pulizia Municipale perché è quella che poi dà le indicazioni dove prima è meglio intervenire. È una bella squadra che sta facendo parlare bene di sé, che ha creato la Cassano dei Candieri e che sta scrivendo una pagina storica per il Comune di Cassano, una pagina che inorgoglisce me, inorgoglisce i miei sostenitori, i miei consiglieri comunali, inorgoglisce la Giunta, il Palazzo Comunale e credo che inorgoglisce l'intera città perché quando di una comunità si parla bene, si parla di una comunità che si rinnova, che fa interventi per far vivere meglio la cittadinanza, per creare sempre di più una città a misura d'uomo, c'è da essere orgogliosi. Noi continuiamo su questo percorso, stando sempre accanto alla gente, onorando gli impegni che ci siamo assunti e ringraziando con l'impegno quotidiano fattivo e mi piace sottolineare soprattutto onesto e trasparente che stiamo attuando nell'esecuzione della nostra attività sul territorio comunale. Grazie anche al mondo dell'informazione perché l'informazione è fondamentale e importante perché i cittadini devono essere puntualmente dettagliati, informati su quello che un'amministrazione realizza e anche perché il cittadino si è informato alla possibilità di verificare, di controllare, tra virgolette anche di spiare quello che succede perché così deve essere, fare le cose per bene, per la comunità e non cose particolari. Noi stiamo lavorando per la comunità, è un riconoscimento oramai che proviene da tutte le parti, sociali, da tutti gli istituti di controllo anche che ci sono sul nostro territorio, di questo io sono veramente fiero, orgoglioso e soddisfatto. Oggi una tappa importante, un giorno importante per il comune e il territorio di Cassano, un giorno importante per i cittadini perché come vedete siamo passati dalla consegna di lavoro di una scuola, alla consegna di lavoro messo in sicurezza della rete stradale nelle zone turistiche del nostro territorio. Abbiamo una costa stupenda, 7 km di costa, il mare brillante di Sibare, la spiaggia dorata di Sibare, i nostri villaggi, marine di Sibare che nonostante alcuni problemi che ha, comunque è un villaggio che attira una moltitudine di persone. Nella Venezia del Sud, questa dei laghi di Sibare, ho parlato ieri con i vigili urbani e con l'ufficio tecnico comunale che li ho invitati a reiterare le ordinanze di decoro qui del centro commerciale, di messa in sicurezza, di abbellimento di queste facciate perché un paio di anni fa l'abbiamo fatto, alcune sono intervenute, altri hanno fatto finta di niente, abbiamo segnalato che di competenza le inottomberanze, il comune si dovrebbe sostituire, non abbiamo i soldi per poterlo fare. Reiteriamo le ordinanze anche un fatto democratico per dire cittadini, date anche voi una mano, il comune sta facendo la sua parte, voi che avete proprietà in questa meravigliosa realtà dei laghi di Sibare, intervenite però e dateci una mano perché è un complesso che dobbiamo recuperare e rilanciare. Qui ai laghi nei prossimi giorni credo che faremo anche una iniziativa per presentare il progetto esecutivo che è stato presentato per la sistemazione del canone dello Stombe, una pagina importante per chiude definitivamente la questione dell'insabbiamento anche perché poi ci sono organi dello Stato che anziché aiutare, in alcuni momenti cercano di bloccare. Pensate un po' che mi informano gli uffici che per poter scavare la sabbia che costruisce l'accesso al canale dell'analisibile, addirittura dopo gli interventi per la specie aliena. Adesso si sono inventati che dobbiamo dare incarico ad un archeologo subacqueo che prima di poter mandare lì il pontone dragante dobbiamo far andare sotto un archeologo per vedere se quando togliamo la sabbia possiamo entrare. È una cosa assurda, è un'assurda. C'è stato un Presidente di Regione che ha detto che quando si parla di tutte queste cose farraginose, parere contro parere, c'è gente che dovrebbe essere portata in mani come, è proprio così. È una cosa veramente assurda, che non fa onore a chi le pensa queste cose perché credo che bisogna facilitare l'amministrazione pubblica, bisogna lavorare ovviamente nel rispetto delle norme nella tutela ambientale. Io sono un sindaco che sta battendo enormemente per la tutela dell'ambiente. Le mie denunce per l'area SIC sono sempre pressanti perché noi dobbiamo tutelare questo meraviglioso bene che la natura, il creatore ci ha consegnato, lo dobbiamo tutelare per bene, ma senza esagerare, senza soffacare le attività.